Giunta la terza edizione, dopo una tappa strategica negli Emirati Arabi, si prepara a tornare a Roma ed il social network Bicab, la più importante fiera di edilizia, architettura e design, pensata per connettere aziende e studi tecnici di progettazione, ingegneria, buyer e business developer da tutto il mondo. L'appuntamento è dal 31 ottobre al 2 novembre presso il Roma Convention Center La Nuvola, firmato da Massimiliano Fuxas. La Carmes metterà al centro la questione ambientale, come illustrato dallo slogan Dal Cucchiaio alla città sostenibile, un tema quello della sostenibilità ritenuto importante dai giovani architetti europei. La fiera si distinguerà per il pubblico B2B, altamente profilato e favorirà le connessioni tra progettisti e produttori, all'interno di un ambiente ideale per discutere di soluzioni innovative e tematiche di settore. La fiera offrirà un ambiente all'avanguardia, ecocompatibile e tecnologicamente avanzato. Gli espositori avranno la possibilità di incontrare direttamente studi di architettura e ingegneria, istituzioni, enti, organizzazioni di settore e buyer provenienti da tutto il mondo. Quest'anno è la terza edizione, ma io direi la prima delle tre, perché comunque è un'edizione dove c'è un cambiamento, sia nel nome, quindi da Edil Social Expo passiamo a Bicad, e vuole essere appunto una manifestazione importante non solo su Roma, quindi sulla piazza di Roma, ma anche in una piazza nazionale e internazionale. Ed il social network, non ci dimentichiamo che già è appunto la terza edizione, è partita da Roma, è arrivata a Dubai, oggi ritorna a Roma e quindi dal 31 ottobre al 2 novembre ci saranno degli eventi dedicati non solo al tema dell'edilizia, ma in generale al tema dell'architettura e quindi del design, del fashion e nonché dei prodotti. Ovviamente l'argomento principe è la sostenibilità.